Si è stata concessa, ottenuta, richiesta, reclamata, ma devo dire abbiamo trovato nel Ministro Sacconi un interlocutore disponibile perché si attivasse la cassa integrazione per gli operatori della formazione professionale che come ben si vede è oggetto di una riorganizzazione profonda, radicale, che dovrà portarci a ridurre il numero degli operatori, con i prepensionamenti e anche attivando la cassa integrazione. La cassa integrazione riguarderà lavoratori di enti che hanno già presentato istanze di mobilità e di messa in cassa integrazione, riguarderà anche i lavoratori, gli operatori della formazione del CEFOP, il CEFOP ha circa un migliaio di dipendenti che da molto tempo non percepiscono stipendio, 15 mesi, 14 o roba del genere, avevamo detto che non potevamo pagarla questi stipendi per mille ragioni, una è che l'ente non era a posto dal punto di vista del DURC, anche se al tempo stesso rivendicava crediti rispetto alla regione, non potevamo fare che questo, la messa in cassa integrazione che è stata finalmente una mossa che forse poteva essere attivata prima, ci ha consentito di chiudere un accordo che potrà da domani, se non domani sarà post domani, cominciare a pagare dal febbraio scorso questi operatori della formazione del CEFOP, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, di questi 6 mesi l'Inps potrà pagare i primi 4 immediatamente, a questa indennità si aggiungeranno i fondi del nostro, il fondo di garanzia, i 450 Euro del fondo di garanzia, insomma sarà una boccata di ossigeno importante, poi si pagheranno il resto da febbraio degli arretrati, quando dovesse poi intervenire un'amministrazione determinata dall'avvio della procedura fallimentare, che sarà discussa credo, la vertenza, la vicenda sarà discussa a settembre, in quel caso quando dovesse esserci un amministratore giudiziario avremo un interlocutore che consentirà alla Regione eventualmente di pagare anche a prescindere dal DURC, non è che quindi non si è voluto pagare, purtroppo su questo argomento che riguarda centinaia di famiglie si è fatta qualche speculazione, ci sono state le giuste, lamentele proteste da parte degli operatori, ma il ritardo nel definire questa pratica è il portato di un lavoro di riorganizzazione della formazione professionale, che poi soprattutto si realizza con il nuovo cosiddetto piano prof della formazione professionale, che sarà triennale, che è basato su un costo standard dell'ora formativa, al quale dovranno adeguarsi i vari enti, ai quali noi chiederemo che ci venga reso quello standard, che riguarda le strutture, il numero degli allievi, la qualità della formazione etc., i quali enti come qualunque fornitore privato di servizi dovranno adeguarsi ovviamente a quelle che sono le condizioni perché questi servizi vengono resi bene e vengono di conseguenza pagati, a differenza che in passato che ogni ente ha presentato il rendiconto finale alla luce di questo, ha ottenuto l'integrazione, il di più, come se non ci fossero limiti di bilancio anche nella formazione professionale, ora la cosa dovrà andare diversamente, nel senso che si sa quello che c'è, la gran parte del costo sarà caricato sul Fondo Sociale Europeo, come non si è fatto mai in passato, sprecando centinaia di milioni di Euro, forse miliardi di Euro di soldi regionali che se investiti nello sviluppo di posti di lavoro ne avrebbero dati migliaia e migliaia ai nostri figli, ora andremo avanti così, purtroppo anche in questo caso la riforma ci è costata incomprensioni, critiche, però servirà ai siciliani, ai ragazzi che devono formarsi, che devono essere formati bene e a coloro i quali presto nel servizio che sanno che devono rispettare delle regole.